La proposta lanciata dall'amministrazione comunale di Roseto degli Abruzzi per acquisire l'ex area di risulta vicino alla stazione ferroviaria di Roseto per costruirci un multipiano con quasi 500 parcheggi. Si tratta di un problema fondamentale, quello di parcheggi al centro e occorre risolverlo con misure drastiche, non con brodini e quindi il primo passo è quello dell'acquisizione del parcheggio delle ferrovie. Per questo l'amministrazione ha intavolato da tempo una trattativa, un dialogo con le ferrovie dello Stato per acquisire gli immobili di proprietà dell'ente ferroviario e quindi stiamo completando l'acquisto dell'arena Quattropalme come primo passo e poi però successivamente dovremo impegnarci per l'acquisto del parcheggio. Sarà un obiettivo sul quale c'è bisogno del massimo sforzo perché risolverà veramente un problema fondamentale e quindi occorre anche rivedere un po' quell'area ed avere un po' il coraggio di pensare a progetti innovativi che possano pensare magari a parcheggi multipiano, comunque sempre che siano sostenibili ma che una volta per tutte risolvono un po' il problema. Poi è chiaro che si tratta di situazioni che vanno risolte, quelle delle carenze di parcheggio anche con altre misure e la variante sui vincoli decaduti può dare dei contributi in tal senso. Ecco, in caso di conclusione positiva si risolverà la problematica legata ai tanti disagi ai parcheggi nel centro di Rosetta. Sì, prima di tutto intanto sarà di proprietà del comune quindi già questo sarà un passo fondamentale e poi ripeto questo ci darà la libertà di muoverci e ripensare quegli spazi senza ovviamente dover necessariamente dialogare con le ferrovie. Attualmente i proprietari sono loro e quindi dobbiamo necessariamente confrontarci con loro. Invece un passaggio fondamentale sarà l'acquisto sul quale c'è una disponibilità delle ferrovie e c'è stato un importante lavoro da parte dell'amministrazione comunale, da parte un po' di tutta la maggioranza. Non dimentico anche l'impegno dell'onorevole Ginoble e anche di tanti politici in passato che hanno cercato sempre di raggiungere questo obiettivo ora. È chiaro che abbiamo delle situazioni importanti da gestire a livello di bilancio però ci vuole comunque uno sforzo importante per il futuro, per porre le condizioni per arrivare al dunque e per rendere nostra quell'area.